Invochiamo la Tua presenza, vieni Signore, invochiamo la Tua presenza, Gesù di noi. Vieni Consolatore, dono a pace d'umiltà, acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a Te. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Su Noi, Maranatha, vieni Su Noi Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Il Signore sia con voi. Vieni Spirito, vieni Spirito. Io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre. Egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi. Quando verrà Lui vi guiderà a tutta la verità perché non parlerà da se stesso ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Noi, 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 noi. Parola del Signore. Perché stiamo a comodare? Dio amico. Per me è questo, Gesù. E per me qui c'è il motivo per cui sono cristiano e c'è il motivo per cui c'è l'Eucaristia. Perché anche se è un amico misterioso, un amico che con fatica magari capisco, sento, intercetta. Un amico che parla attraverso il Vangelo, che parla attraverso le persone. Tu e il tuo rapporto personalissimo con Gesù. Benjamin ha un rapporto tra Benjamin e Gesù. Martina, Idem. Gabri pure. Linda, Idem. E non è che si può dire è la stessa cosa. No. Ognuno di noi, in Gesù, chi trova, chi trovi, tra di uno col quale puoi installare un'alleanza, come stiamo facendo qui, un'amicizia e soprattutto un rapporto personale. Perché Gesù Cristo continua a essere il tesoro più grande dell'umanità. Per noi cristiani Dio ha un volto. Per noi cristiani Dio ha delle mani. Per noi cristiani Dio ha degli occhi. Capite dov'è il tesoro? E capite che ogni volta che ci allontaniamo da Lui o prendere le distanze da Lui è assurdo. Facciamo del male a noi stessi. Perché penso che un Dio così, amico e uomo, non ce l'ha nessuno. vuol dire che c'è il tesoro, c'è di sicuro, ma è un po' nascosto. Risi. Nascosto significa quello che loro ricevono, ne parlavamo anche ieri, apparentemente solo un piccolo pezzo di pane. L'occhio vede solo un piccolo pezzo di pane. Il malato cosa sente? Un piccolo pezzo di pane. E allora come la mettiamo? O ci stiamo veramente prendendo in giro tutti. Oppure qui c'è qualcosa di che non si vede a occhio nudo, che non si sente colpalato. Vedete, qui c'è il bello e la fede. E' Gesù che ci vuole con sé. E' con sé, non nel paradiso per i momenti in me. Ma ci vuole, vuole e desidera che noi viviamo con Lui. ricevere l'eucaristia ha questo significato. Che io ospito Lui con me e lo seguo. Mi fido volentieri. Mi fido di Lui. E allora ecco che senso quello che stiamo facendo. E allora ecco qui. E allora ecco qui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.